Gentili telespettatori buona giornata bagno di folla a Torbella Monaca a Roma per il capo della Lega Salvini. Una Torbella Monaca è una delle periferie di Roma. Chiude così la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali che vedranno partecipe anche il comune di Roma dove si cercherà di mandare via il vento del cambiamento, la leggenda Virginia Raggi, quella che il comune proprio ieri ha sbagliato anche la data delle elezioni. Ha detto il 2 e il 3 al posto che il 3 e il 4. Fantastico. Il 3 e il 4 invece la data corretta si sceglierà il sindaco della capitale. Il leader della Lega è convinto della scelta di Enrico Michetti e dice non solo è il candidato giusto ma la cosa importante è che sarà il sindaco giusto per Roma. In bocca a Luca, non a Luca ma al lupo, perché con Simonetta Matone ti aspettano cinque anni di duro lavoro. Non c'è nessuna separazione nella Lega, le separazioni sono altrove. C'è una sola Lega che ha il governo e ottiene risultati. In realtà voi sapete perfettamente che la spaccatura nella Lega c'è e come e la Lega che ottiene risultati nel governo realmente non esiste. Noi siamo qui per gridare che Torbella Monaca come Corviale, Primavalle, San Basilio non sono delinquenti e spacciatori ma un sacco di persone per bene, famiglie, mamme e bambini. Abbiamo deciso di non stare nei salotti buoni frequentati da Calenda, Gualtieri, Raggi e qualche cinghiale. Sono convinto, dice il capo della Lega, davanti alla folla che c'è al suo comizio, Michetti arriverà al ballottaggio con un grande vantaggio sulla sinistra e la Lega sarà la sorpresa di queste elezioni per il Comune di Roma. Insomma, che la Lega sarà la sorpresa in queste elezioni non credo proprio, però chi lo sa. Michetti avrà dieci punti in più del secondo, questo sì, Michetti sarà il primo con dieci punti di vantaggio ma dovrà andare al ballottaggio per questa sciocca regola che il primo non può vincere ma deve andare al ballottaggio. È un po' sciocca, nel senso, io sono dell'idea che se vince Michetti di dieci punti di vantaggio il sindaco e basta. No, deve per forza andare a fare un ballottaggio con il numero due che poi fa coalizzare tutti gli altri e lo battono. Questa è veramente una cretinata galattica. Non so perché ci sia questa regola per le elezioni per i sindaci, questo è il ballottaggio. Ma che ti ballotti? Se uno vince, vince e basta. Vince no, devi vincere due volte. Che stupidaggine. Vabbè, così dice poi e la Lega prenderà molti più voti di quanto qualche giornalista di Repubblica o del Fatto scrive. Caro Salvini, non è che se Repubblica o Il Fatto scrivono che la Lega Roma perde poi perde. Che te frega quello che scrive Il Fatto quotidiano e la Repubblica. L'importante sono i voti. Vedremo i voti il 3-4 settembre perché ormai dal 2019, o qualche elezione regionale che c'è stata, non abbiamo più visto realmente dei voti. Abbiamo visto solo sondaggi, sondaggi. Tutti i sondaggi sono di parte. Ci sono quelli di parte di centrosinistra, quelli di centrodestra, quelli che fanno finta di essere imparziali, invece sono di parte pure. È difficile trovare un istituto demoscopico che sia imparziale. Ma Salvini dice che all'onestà noi non vogliamo aggiungere la competenza. Ce la ricordiamo ancora Virginia Raggi che diceva onestà, onestà. Ma l'onestà non basta. Lascio il futuro di Roma in mano a voi. Da romano di adozione mi rifiuto di pensare a Roma in mano di incapaci, di partito democratico e movimento 5 stelle. Non possiamo permettercelo. Certo che Salvini, che si definisce romano di adozione, insomma. Siamo ancora in tempo, dice. Abbiamo scelto, dice alla vigilia del derby della capitale tra Roma di Murigno e la Lazio di Sarri. Un sindaco e pro sindaco nel rispetto del derby. Uno della Roma e uno della Lazio, dice Matteo Salvini, che dice cari romani ora dateci fiducia. E così Matteo Salvini chiude la campagna a Torbella, Monaca. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vediamo che tutti e due i leader di centrodestra hanno riempito le piazze. Una piazza Milano, piazza Duomo e a Roma Torbella, Monaca, Salvini. Ecco, con le locandine Roma torna capitale, vota a Lega. Ecco, insomma, alla fine vedremo in queste elezioni regionali come i partiti si posizioneranno. Perché? Voi sapete che a Napoli i partiti hanno delle percentuali, a Milano altre, a Venezia altre, a Bologna altre, la sinistra è più forte a Bologna e meno forte da altre parti. Naturalmente non si potrà prendere per buono, ad esempio, la Lega, quello che fa a Napoli, perché lì è debole. Bisognerà fare una media, una media di tutti, mi sembra che i comuni che vanno al voto sono 1.100, una cosa del genere. Bisognerà fare, visto che saranno a votare 20 milioni di italiani, 20 milioni di italiani su 40 milioni di elettori, vuol dire che il 50% degli italiani saranno chiamati a votare. Pertanto sul 50% degli italiani si potrà fare una bella media dei partiti, avranno dei sistemi dove metteranno dentro tutti i dati e verrà fuori una media nazionale di tutti i partiti. Quindi lì vedremo realmente e finalmente i partiti che percentuale hanno al 3-4 di ottobre. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra qualche minuto, una ventina di minuti, sempre qua su questo canale. Ricordatevi che su Teleitalia c'è anche, su questo canale, nella community tanti sondaggi quali poter partecipare. Poi c'è Teleitalia Seconda Rete, con video di politica e non solo. Questi video poi li trovate dopo qualche ora condivisi sulla pagina Teleitalia su Facebook, così lì li potete condividere con chi volete. Grazie nuovamente, ci vediamo a presto. Grazie. 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 Grazie.